Un inizio di settimana all'insegna del teatro e della commedia per gli eventi dell'estate 2022. Ieri infatti le luci dei riflettori si sono accese per la commedia Madame Elisir di Antonio Puglisi, a cura del gruppo teatrale Il Laboratorio Nella Natoli, nella splendida cornice di piazza Gepifaranda Rocca di Caprileone. A San Piero Patti invece, al chiostro del convento dei Carmelitani, è andata in scena L'Epidicus di Plauto, una commedia appartenente al repertorio classico con un allestimento particolare e maschere antiche. L'evento è stato organizzato con il consorzio Tindari Nebrodi all'interno della rassegna Nebrodes e ha visto la performance del regista e attore Marco Simeoli con la regia di Cinzia Maccagnano e le musiche di Germando Mazzocchetti. Anche il programma di stasera, secondo alcuni calendari estivi, prevede altri spettacoli teatrali leggeri o un po' più impegnativi. A Torre Nova, la compagnia teatrale I Frastornati presenterà la commedia Turbulenze d'Amore, Riduzione e Adattamento di Gabriele Perrini, che si terrà in piazza Autonomia dalle ore 21 e 30. Al teatro antico di Tindari sarà rappresentato album di famiglia, il successo teatrale del regista veronese Matteo Spiazzi, prodotto dal Left Bank Theater. Il dramma è un tuffo nel passato, ambientato negli anni 90 in Ucraina, in un momento storico molto delicato, ovvero lo scioglimento dell'URSS. Lo spettacolo inoltre vede l'utilizzo di maschere realizzate con la tecnica del papier-mâché, un particolare tipo di cartapesta. A lungomare di Brollo stasera si ballerà il liscio con il gruppo musicale XXL dalle ore 21 e 30, mentre a Piraino è prevista la serata 100 eccellenze pirainesi e animazione Boom Boom. A Montalbano e Licone infine ritorna la festa patronale Maria Santissima della Provvidenza in programma oggi e domani.